Cari spettatori, benvenuti su AMF Channel. Oggi vi portiamo gli aggiornamenti freschi freschi dal grande fratello. La tensione nella casa è alle stelle, ma concentriamoci sui nuovi sondaggi. Ecco una conferma lampante. Con il 60% dei voti, Beatrice Luzzi è ancora in testa, secondo Federico, ma Monia si avvicina. Federico si attesta al 14.81%, mentre Monia è al 14. Attenzione al secondo posto, potrebbe esserci uno stravolgimento. In ultima posizione c'è Rosanna Fratello, sempre più staccata con solo l'11% dei voti. Una classifica che fa riflettere, così come il sondaggio interno che pone Sergio Dottavi all'ultima posizione, con l'entrata di nuovi concorrenti. La situazione di Rosanna Fratello è critica, potrebbe essere a rischio eliminazione, insieme a Paolo Masella. Amici di AMF Channel, se i sondaggi generali dicono la loro, c'è un altro sondaggio cruciale. Chi dovrà abbandonare la casa? Nel 2024, il primo grande fratello vede in testa Beatrice, seguita da Federico, Monia Laferrera, e in ultima posizione, Rosanna Fratello. Sembrerebbe che Rosanna sia destinata a lasciare la casa. Ma attenzione, la partita potrebbe cambiare. Prima di concludere, vi invitiamo a esprimere la vostra opinione su chi dovrebbe essere salvato. Beatrice è in testa anche in questo sondaggio, seguita da Federico, Monia Laferrera, e Rosanna Fratello in ultima posizione. Sembra che la nostra Rosanna sia davvero a rischio di uscita dal grande fratello. Rimani con noi fino alla fine per ulteriori aggiornamenti. Rimanete con noi su AMF Channel per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, ricordatevi di lasciare un like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Buona visione!